Una mostra e tre serate all'insegna di calici e degustazioni gratuite per apprezzare tutte le qualità di due e delle eccellenze della Sardegna, il vino e la birra. Prende il via da oggi, sino a sabato 24 settembre, a Pula, Binu e Birras, la tre giorni interamente dedicata al buon bere di Sardegna. Protagonisti delle serate saranno il Canonau e le birre artigianali prodotte nell'isola e i suoi protagonisti. Ad ospitare la prima edizione dell'evento è il Giardino di Casa Fenu. Nel programma anche una mostra visitabile dalle 18 alle 21.30 con ingresso libero, abbinata alle tre serate di degustazione curate da esperti mastri birrai e sommelier professionisti della Federazione Italiana Sommelier. Come detto, gli assoluti protagonisti saranno il Canonau e le birre. Il primo, indissolubilmente legato alla storia della nostra isola fin dall'epoca neuragica. Le seconde, emblema di un'attività in continua crescita. Entrambe le eccellenze saranno raccontate attraverso l'esperienza e la profonda dedizione di chi li studia e li produce. All'evento è abbinata la mostra Sette da Lupoli, organizzata dall'Associazione Bottega in Piazza in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier e con il contributo della Fondazione di Sardegna e il Comune di Pula, per partecipare alle degustazioni gratuite e obbligatorie alla prenotazione.